Ci trasferiamo nel sud per gli extra del quinto DVD. Cominciamo con Napoli. Immagini imprevedibili, anche stereotipate, chiste o paese do sole e su melodie tradizionali capri e i faraglioni per il pomidoro Cirio. Cirio è sponsor privilegiato per la città. Oh, torre pendente di Pisa! Ma che state scherzando? Questo è il campanino della Madonna del Carmine. Ammirata la forma rivoluzionaria da 300 anni è legata al cuore dei marinai vicini e lontani. Oh, ma Zaniello! Fai cuccia tu. Signori, ascoltate. L'ora della riscossa è suonata. L'ignoto autore dell'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona ci indica la strada da seguire. Ma qual è la strada? Quella del cortile? L'ingresso al salone dei baroni? Ma nessuno lo sa. È... La strada è la strada di Alfonso d'Aragona che fattano figurente di Alfonso d'Aragona quello dell'arco di Alfonso d'Aragona che il mondo è la strada di Alfonso d'Aragona ci indice alla billioni Bacca Napoli Dall'alto di questi vicoli 300 anni di spaghetti a vongole ci guardano Eh, o non è popolare? È popolare, è popolare E vedi se la finisce Ammirate la nascosta bellezza Il recondito fascino della penombra del chiostro di Santa Chiara Eh, o non è misterioso? È misterioso, Emmy E vedi se si sta zitto E dopo Napoli, Palermo Direi che le città di Napoli e di Palermo sono mediamente carosellare Le loro precipue caratteristiche sono messe in evidenza Ma soprattutto dalle colonne musicali del loro tradizionale, inconfondibile repertorio Tarantella siciliana a Taormina La gioia di vivere e l'allegria sono, e si vede, i motivi fondamentali di questa danza Fatta ogni anno, nelle feste popolari, in occasione del raccolto Un inno alla vita, o meglio, al miglior modo di viverla Fono a Tocco, 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 Tocco e Tocco Da i menti, da i menti, di vedi, la visita di Napoli e di S là Fono a Tocco, 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 Tocco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.